Ciao a tutti ragazzi, questo è RotoJexMurri e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati in questo nuovo video su GTA Però abbiamo rimpiazzato il nostro amico Giampiero Perché è successo una cosa ragazzi, cosa è successo? E non è più online! Non è più online! Perché si fa le mod? Eh sì, lui installa le mod e poi ci mette 46 giorni a farsi sbannare l'account Però in sua sostituzione abbiamo UBRAZO UBRAZO CRIU Esatto, e poi abbiamo anche UBRAZO Diciamo l'elemento un po' più a rischio della crew perché ha una strana malattia Io soy Pablo Trollerino, esco al bar e io de puta Io de puta Per l'appunto avete capito voi stessi di che cosa si tratta Questa gara, cari bambini, è una gara molto particolare perché Perché bambini? Ma io sei diventato Snitex Questa gara, cari vecchi di merda e pezzi di cornuti Va bene così, vi piace essere trattati male come de puttare Oh ma che cazzo, bravi, 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 ma due polli Ma che cazzo succede qua? Ragazzi stiamo per entrare in un mondo magico, ossia dentro una mela ragazzi Ragazzi io so, cioè è proprio... Vabbè Brazzo non è una novità Eh fa strano No ma fa strano, fa stranissimo Sembra di stare dentro un trip Eh bravo Brazzo, questi tuoi passati da tossicodipendente No raga, no 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 Mi sono incastrato, mi sono incastrato Brazzo, ah! Vai, vai, vai! No, non l'ho bella notrizzata Dai ma se no, se no No, no, io sto bestemmiando No, no, sbagliato, 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 cazzo Non l'hai preso? L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso Ma è possibile? Ma qua siamo dentro la mela Tu sei un coglione Cazzo Ma che c'entra? Ragazzi ma mi spiegate che cazzo di gara è questa? E devi girare con una trottola Cioè che cosa bisogna fare? Morri Porco Minchietta, l'ha mai detto nessuno, ok? Una somiglianza con una malattia particolare Si Ho una malattia, è pericolosa L'era di Brazzo Ho la mononucleosa Ma che... ma tu sei... Che cazzo è quello che va addosso alla roba senza manco... Vabbè niente Ma che cazzo di... Che cosa guardi, Brazzo? Non lo so Dove devo andare adesso? Ma io me ne vado, sono primo Vaffanculo devi andare Ciao ragazzi, sono primo C'è l'altro coso? Ciao ragazzi, sono primo Ma chi è che ancora è la spirale dentro la mela, come me? Come me? Come me? Just something like you Ciao, ciao, sono Morri Faccio abbastanza... Fai schifo Guarda che sono io primo ragazzi Secondo me voi non avete preso un checkpoint sicuro Io l'ho presi tutti, cretino, stupido Guarda che sono primo io, coglioni E io sono terzo, che cazzo vuoi? Eh beh, Morri, se fai abbastanza cagare al cazzo Cioè non è lo spazio Speriamo che Stormi è ultimo Hai visto che ho vinto? Coglioni Non può essere Stormi secondo Guarda, devo vincere io Ma è possibile che devo vincere io? Boh, non lo so Dai Stormi, dillo che sei ancora Noo Bastardo Ma guarda Stormi Ma guarda Stormi Ma quanto fai... Quanto fai stare? Ti dedico una canzone Ti dedico una canzone La mela La mela Perché no Porco tu, ti mando la Fioretta Mari porca merda Aspetta, Fioretta Mari è Fioretta tu madre Un attimo che Stormi sta partendo Sta partendo con Stormi il momento musicale Mi sembra di aver capito Mi sembra di aver capito Vai It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again Perfetto, grazie Uto Ugi, ragazzi Dal violino e passato dalla chinarra I used to save your power of my life Because they too Stormi ha due anni Cioè Non si può curare Emma la malattia è contagiosa È contagiosa Statemi lontano È pericolosa Mamma mia Seconda posizione Tra l'altro l'ospite del video Cioè il proprietario del video è ultimo C'è una roba veramente abbastanza imbarazzante È una cosa che non si è mai vista Però Stormi Eh ma lui sempre Non gioca con me Arriva sempre ultimo Nooo Questa è senza collisioni Così il brazzo non mi può rompere la fama Dei metti e collisioni C'è lo scroto Io prendo l'X80 Che macchina prendete? Prendiamo lo scroto dai Dai che cos'è? Ah lo scroto Si è praticamente è una macchina che inizia a scuotere Poi praticamente esce il NOS Avete davvero preso tutto Lo scroto si L'X80 scroto Figa Si pure io ho preso quello Allora stai zitto sciamo Pensavo che trollavate perché siete dei trollini No con te è come sparare sulla croce rossa Si eh Ma mi sei in culo Pfff Come quando mi trovo tu madre E' come è facile no? Non si dice Raga ma che auto figa questa eh Questa qua è un'auto Intanto un saluto a Igna85 che ci sta guardando Parente di brazzo dell'85 Non è vero sono dell'80 io Ah tu sei dell'80 Ancora più vecchio del crepito cazzo De Geyser vengono fuori dall'asfalto Wow La mamma di Stormi questa Ma che cazzo è? Ma non c'è un qualcosa È tutta così sta gara Questa diciamo è una gara da formula 1 Eh vi piacciono le gare in cui dovete spingere fuori eccetera eccetera Invece no pezzi di me Poi è una gara dove dovete dimostrare la vostra skill diciamo Sei livello 180 ma perché non esci fuori le palle nella tua vita almeno una volta Effettivamente brazzo crew Cioè non hai mai uscito le palle nella tua vita brazzo Ma vattene l'affanello Devi vedere il brasile È padre di mezzo brasile brazzo Che da tua madre sono uscite le palle? Aaaaah Lo sapete perché sei debole E vai sempre Vai sempre a parare lì nel pornografico Nel tuo ambiente diciamo Beh vuoi tu Bravo murri bravo No bravo murri dove sono le skill murri Dove sono le skill murri Nel culo di tua madre Si Wallride ragazzi improvvisato Ma tutti in wallride abbiamo fatto? Eh abbiamo fatto due No solo voi due perché siete due coglioni Eh brazzo tu sei 30 e 40 anni ormai Che cazzo vuoi? Infatti io sono un pilota professionista Sono saggio Ti danno anche la pensione di invalidità appio Si Oh voi sei un culo Nooo Mi sei ringgirato la macchina Eh magari ti sei ringgirato in real life Tacca poco Ma magari mori io No No perché voglio dire Comunque nei video di GTA Ci serve comunque un qualcosa di jumpy tech no? Si Raga ma se mi aspettaste che sarebbe anche bello da vedere Se mi aspettaste io sarei No sti grazie No Possiamo raggiungere un accordo Brazzo a te quanti iscritti servono che sei un morto di fame? Eh non te lo cuore che fra poco ti supero Ah attenzio Ma scusa ma mori è sempre ultimo ma che senso ha giocare con... Boh io Brazzo io quitterrei Lo spiazzo ai giovani Lo spiazzo ai giovani Lo spiazio Minchia ti vedo Eh vedi? Ma dai lo vedi? Si ti vedo cornuto Allora vedi un affanculo Eh ma a Roma c'hanno questi detti A Roma... Cioè dico ci vedi? Si Allora vedi un affanculo Non ci vedi? Se non ci vedi vedi un affanculo a tastoni Ahahahahah Eh ma Brazzo comunque c'ha esperienze di queste cose diciamo eh Nella malavita si è organizzato per non essere soppresso Perché lo prendiamo in giro perché non aveva... Nooo Stormi Nooo Cosa? Dai vai 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 Dai alla mia occasione No è finita non ci credo No raga mi sono fatto fregare da un clandestino Quindi ragazzi se il video vi piaciuto vi ricordo di lasciare un bel podice in su Arriviamo a quanti mi piace diciamo A 17 A 17 mi piace non mila 17 mi piace Ringrazio Brazzo Crew e Stormi Noi ci vediamo... Stormi perché vai offline? Metti che adesso volevo fare un'altra gara pezzo di... Online Noi ci vediamo al prossimo video Woooo